Attenzione, passiamo al prossimo esercizio. Adesso dobbiamo fare sinistra-destra, è quello che abbiamo imparato prima. Quindi io faccio sinistra-destra, col che colpisco in testo deve mettere bloc, col che colpisco di qua deve mettere bloc. Ne hai capito? Ok, proviamo. Sinistra-destra, bloc, bloc, va bene, due, tre, bloc, bloc, quattro, bloc, bloc, cinque, sei, bravo. Allunga braccia meglio, sette, ok, perfetto, otto, bloc, bloc. Difenditi meglio, chiudi bene la testa, e, otto, nove, perfetto, dieci, bravo, cambiamo la guardia. Ok, destro-sinistro, bloc, 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 uno, ok, perfetto, due, tre, quattro, super, cinque, più veloce, sei, viale, otto, nove, dieci, bravo.